Mi aspettavo, visto che c'era stata una mano particolarmente pesante e anche secondo me ingiusta, mi aspettavo uno sconto maggiore, soprattutto su Sirri perché non c'erano i presupposti per una sanzione così grave. Purtroppo è stata accolta solamente parzialmente e dovremo fare a meno di Alex ancora per tre gare, mentre per Davide avrà ancora poco tempo prima di poter tornare a disposizione, però sinceramente speravo in qualcosa di meglio. Sicuramente piacevole perché ho avuto un ottimo rapporto con la gente, con la società, un direttore sportivo che avevo già avuto a Carrara e con il quale mi sono sempre trovato bene nel lavorarci insieme, però troveremo un ambiente carico, troveremo un ambiente, una squadra che vorrà venire fuori da questo momento complicato. Poi quando devi giocare le partite non è dico da dentro o fuori, però con l'acqua alla gola, visto anche il tempo che andremo ad affrontare che già sta imperversando perché stamattina abbiamo fatto l'allenamento sotto sotto un bel temporale, un bel diluvio, non sempre riesci a dare quello che vorresti perché talvolta la parte agonistica prevale ma perdi in serenità, perdi in tranquillità nell'affrontare la partita e spesso ci arrivi con un dispendio di energie già prima di giocare la gara. Dovremmo essere noi bravi ad andare là preparandoci a una battaglia, preparandoci anche a trovare un campo magari in non perfette condizioni e questo un po' per la qualità delle due squadre ci potrebbe penalizzare ma credo che sia anche un ulteriore banco di prova per tastare il polso a questi ragazzi perché stanno continuando a crescere, stanno continuando ad allenarsi a mille all'ora per voler continuare a migliorare e andare a Pistoia trovando una squadra che ha necessità di punti in un campo probabilmente pesante, allentato dalla pioggia, andare là con il piglio giusto e con la cattiveria agonistica giusta potrebbe portarci anche poi dopo a fare una partita veramente importante come mi auguro. Di grosso modo sarà quella della passata della passata gara, sono da valutare soprattutto le condizioni di Arcidiacono, nelle ultime due sedute ha mandato dei segnali incoraggianti sulla possibilità di poter essere presente, di poter far parte della gara a Pistoia aspettiamo fino alla fine però una situazione un pochettino delicata da gestire perché già siamo orfani di Dursi in quel ruolo lì e quindi dobbiamo fare tutte le valutazioni del caso perché solo se ci sarà la certezza di non rischiare nulla utilizzerò Biccio perché altrimenti rischiare di perderlo per due mesi quindi farò le valutazioni con lo staff medico con il ragazzo e se non ci saranno rischi, se l'intorrenzimento sarà solo esclusivamente tendinia ma non sarà più muscolare allora si può anche pensare di utilizzarlo altrimenti magari giocherà Enrico al posto suo anche perché da ampie garanzie è un ragazzo che è cresciuto molto l'ha fatto vedere nella gara di Coppa Italia ma è sempre stato positivo quando è stato chiamato in causa quindi da quel punto di vista lì sono tranquillo sulla possibilità di quello che il ragazzo può dare in campo come contributo personale ai propri compagni e alla squadra grazie